Si chiama Luca Cristiani, ha 15 anni, di lui non si hanno notizie da mercoledì mattina quando, senza portare con sé soldi e cellulare, si è allontanato dalla comunità La Fattoria della Cooperativa Libellula. Il ragazzo, originario di Bari, da due mesi era ospite presso la comunità La Fattoria qui a Specchia ed è proprio presso la stazione dei Carabinieri di Specchia che è stata asporta la denuncia. In prefettura si è riunito il tavolo di coordinamento delle ricerche che sono state estese a carattere nazionale. Al momento della scomparsa indossava jeans corti di colore grigio, maglie a maniche corte bianche, infradito ai piedi e un orecchino di brillantini all'orecchio sinistro. Alle ricerche stanno partecipando i Carabinieri, la Polfer, i Vigili del Fuoco, il 118, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l'Associazione Penelope che si occupa proprio di persone scomparse. La prefettura invita tutti i cittadini a collaborare in caso di avvistamento di telefonare ai numeri di emergenza 112, 113 o 115. Grazie.